La Commissione elettorale ha sospeso questa mattina l'esame delle schede e dei verbali, in quanto sono emerse gravi irregolarità nella trascrizione dei verbali con le cifre riportate che non corrispondono alle schede effettivamente scrutinate. Le sezioni sono la numero 7, la numero 18 e la numero 21, sezioni nelle quali Roberto Mundalli Passi aveva conquistato un ampio margine che i dati reali sembrano ridurre. I legali di Raffaele Pesce, Massimo Laporta e Delvira Serra hanno chiesto dunque che il controllo venga sospeso e inviati gli atti alla Procura della Repubblica per accertare la correttezza del voto. Intanto la Commissione al momento si è riconvocata domani alle ore 9.30 per poter proseguire con l'esame dei verbali. Quello che emerge è la conferma di gravi irregolarità nel voto registrato domenica 12 giugno. Si attende quindi domani per gli ulteriori aggiornamenti.